Più service di Fulvio Perrotta A Voghera in via Lomellina 87 il nuovo centro autorizzato per la vendita e l'assistenza di prodotti originali Forwerk Folletto e Bimbi Per informazioni contattaci al numero 0383 052 058 Più service a Stradella, Novi Ligure e nel nuovo centro di Voghera Vi aspettiamo! Il silenzio imbarazzante che segue la frequente domanda dei bambini e sabato che si fa ora non sarà più un problema per i genitori lavoratori Tutto questo grazie a DopoGià, una sorta di doposcuola che offre soluzioni nei momenti di chiusura scolastica in particolare il sabato dalle 7.30 alle 14.30 a pranzo compreso DopoGià costituisce la fase esecutiva di Concillo, progetto per il potenziamento dell'offerta dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza sul territorio di Voghera a supporto della conciliazione vita-lavoro per le famiglie con almeno un genitore lavoratore per la valorizzazione qualitativa dei tempi finanziato da Regione Lombardia attraverso fondi comunitari Sviluppato da Cresciamo, società cooperativa sociale Onlus e dalla cooperativa sociale La Collina Onlus con l'assessorato ai servizi sociali del comune di Voghera Il progetto vede la partnership di numerose realtà del territorio, unite allo scopo di offrire un tempo di qualità a bambini e ragazzi attraverso laboratori aiuto compiti, teatro, educazione alimentare, la presenza di un ampio parco giochi e tante altre interessanti attività ricreative e istruttive Il servizio, totalmente gratuito o a costo agevolato, a patto di poter dimostrare che almeno uno dei due genitori è lavoratore e presentando la dichiarazione ISEE, prenderà il via il 10 marzo presso l'asilo Cairoli di Voghera, in via Fanti di Taglia 3 Per informazioni è possibile contattare il numero 0383 366011 o scrivere una mail a cresciamocoop.gmail.com